Come andiamo? Benissimo, voi portate fortuna. Dove andiamo oggi? Simba... Dove andiamo oggi? Simba Piempe. Oh la. Come si chiama lei? Stefano sono matto. Matto? Da regalo. La casa là è vostra. Adesso c'è posto per dormire. Eh, madonna. Se il mare è mio... La mare è mia. No, 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 no. Entriamo al rifugio Cimba Piempe. Guardate che spettacolo. Siamo a 1179. Gio, dove siamo? Rifugio Piempe. E mi scaldo le chiappette. Guarda che bella stufa. Alimentazione sana. Ottimo. Perfetto. Dove siamo qua? Qua siamo... Cimba Piempe. Quanti metri? Doveva essere 1260. No, ho sbagliato. Cartellino giallo. No, devo dare un'occhiata. Guardate Albi, il nostro tecnico informatico espertissimo della bike. Ma sembra che ho il naso grosso comunque la telecamera. Come il naso grosso? Guarda il caffetto. No, grazie. Simon, com'è la prima parte di salita? Stupendamente bella. Guardate il panorama. Che spettacolo. Cosa ti aspetti da questa discesa? Abbastanza friabile. Come friabile? Eh, sarà friabile secondo me. Non franabile, friabile. Miguel, cosa fai? Odoro la banana. Dopo una bella salita ci vuole. Odore di banana in Cimba Piempe. Io l'ho molto seguita nelle ultime quattro settimane e non ho visto, ne vedo alcun segno di malattia mentale. E' iniziata la scalata Cima Tignalga. Il primo punto di ristoro di oggi, o meglio di sosta, è il bellissimo rifugio Cimba Piempe con una vista sul Garda Lake spettacolare. Ed ora, ragazzi, il bellissimo Garda Lake. Spettacolo. Wow. Bene, stiamo per entrare nella storia della Prima Guerra Mondiale. Eccoci al Passo della Puria, 1380 metri. Ora si va a destra per Cima Tignalga. Wow! Trasferimento per l'ultimo tratto di ascenza di Cima Tignalga. Leggendaria aria frizzante oggi. Guardate, ragazzi. Che meraviglia. Wow! 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 Guardate il Monte Baldo. Guardate che skyline. Siamo ormai, siamo ormai a Cima Tignalga. Wow! Spettacolissimo! Wow! Benvenuti a Cima Tignalga. 1.409 su di da dove è male. Questi sono i cartelli parlanti del Garda Lake. Iniziamo con la discesa da Cima Tignalga. Wow! Che skyline, ragazzi. Seguiamo le traiettorie di Joe che non evita il primo no spread. Wow! Wow! Mospettissima! Non lasciamola correre! Seguiamo le traiettorie di Stuver Joe! oh il crocchio è il mio il crocchio è il mio ma sarà la cosa che hai bisogno è la cosa che hai bisogno per me ok, brutto No, 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 no! Ragazzi, chiudami, non ci sia da oggi, abbiamo una discesa tecnica smossa, dove si deve ragionare, esplicare, creda, vuoi! Crocorro! Wow, guarda qui, che passaggi spettacolari Wow Wow I'm pissed off at these fucking crowns You're over on top and it's swimming now It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown Wow To the air Riprendiamo Tio Albi Che ci illumina sulle traiettorie Gardesane Guardate gli effetti dell'incendio ancora ben visibili Il Garda Lake Spettacolo Leftover I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for believe me Taken to your hands a plan Your own hands can land your own brand And damn I feel like no one takes accountability They want the credibility Convince Go ahead Go ahead Go 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 inizia il flow, il flow cartesano o il flow bresciano, il Brescia top 3 yeah, open fire, and I just made up the fire open fire via via, è giunto il momento lasciamo la scuola di ora ragazzi do break and break, open open break break open, come le cavo lo volete wow che couture è questa destra infinitamente luta wow bene oggi siamo stati a Cima Tignalga un'intervista caldo al frontman del gruppo di oggi giro anche oggi spettacolare sicuramente è da ripetere è consigliato ci vuole un po' di coraggio comunque come era la discesa Luigi dimmi è abbastanza, come si suol dire, croccantina croccantina ecco il nostro croccante di mandorle guardate che bello e che profumo ma era smossa? ma più che smossa sembrava una frana spettacolo mi raccomando se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace qui su e iscrivetevi al canale alla prossima yeah ciao 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 ciao